Fratelli e sorelle, domani mercoledì 18 settembre 2019 sarò a Predappio davanti alla scuola elementare Adone Zoli alle ore 11 a fare una preghiera di riparazione, a dare una benedizione con il rito battesimale dell'esorcismo che è fondamentale che noi cristiani abbiamo ricevuto durante il battesimo. In questa scuola, professori di quella matrice massonica satanista che è il nuovo umanesimo così definito anche da dotti personaggi purtroppo ahimè del Vaticano, questo nuovo umanesimo permette l'azione massiccia e sempre più azzardata di portare l'insulto satanico tramite libri nelle scuole elementari dove bambini innocenti e piccoli vengono indottrinati alla teoria gender. Infatti in questi ultimi giorni purtroppo un libro in cui si parla di un cambiamento di sesso di una protagonista che vuole diventare maschio per essere forte come i maschi. Ecco io penso che sia importante in questi momenti in cui veramente per noi cristiani stare in silenzio, per noi cristiani stare solo nella preghiera ormai non è più sufficiente. Bisogna fare azione e domani chi può vi invito a venire a Predappio davanti a questa scuola elementare, ripeto si chiama Adone Zori Areone 11, a pregare con me per questi bambini, come recita il Vangelo di Matteo, guai a chi scandalizza il più piccolo di miei fratelli. È meglio che si gettasse con una pietra legata al collo in fondo al mare, così dice Gesù. Fermo restando che il mio esorcismo, ripeto, esorcismo battesimare che in questa lettera che oggi ho fatto timbrare alla procura di Forlì, perché a me piace fare cose con criterio, ecco la procura di Forlì è stata informata, qui ce ne sono anche i timbri di oggi, di oggi, martedì 17, di quello che accadrà domani, quindi vi invito chi vuole esserci domani a Predappio a difendere i bambini, i bambini non si toccano, non si toccano e soprattutto questo nuovo umanesimo, ripeto, organizzato, sappiamo da chi o mai, a chiunque è chiaro che questo ordine mondiale vuole trasformare il mondo contro natura e agli elementari è normale portare un libro in cui si parla di cambiamento di sesso. Vi aspetto domani in preghiera e alto i cuori, nel nome del Dio di Abramo, Isacco e Gesù, Giuseppe che è Gesù Cristo, nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amen.